Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Oggi è il 30 di maggio, siamo a martedì e ci stiamo avviando alla fine di questo mese un po' strano dal punto di vista meteorologico Tra caldo e freddo, ma ormai siamo entrati, possiamo dire, in una fase calda, quasi estiva Allora, partiamo dal santo del giorno, vediamolo subito, il santo di oggi è Santa Giovanni d'Arco Il sole è sorto alle 5.29, tramonterà alle 20.42 Il tempo per oggi sarà un tempo sereno, un cielo sereno con qualche addensamento più consistente soltanto nell'entroterra, sui rilievi Le temperature sono in lieve aumento, per domani, mercoledì 31 di maggio, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in aumento E giovedì si guasta un po' nell'entroterra con precipitazioni che non si escludono nel pomeriggio, nelle zone montane e collinari della regione Però, dicevo, nel pomeriggio le temperature sono stazionali, tempo bello per il fine settimana La tragedia di Cagli Sono affranto, tante otiti le ho risolte Parla il legale di Mecozzi, che è l'omeopata che adesso è indagato per omicidio colposo Per la morte del piccolo Francesco di 8 anni, il bambino che è stato curato con l'omeopatia I carabinieri interrogano tutti, le preghiere, il dolore, domani c'è il funerale alle 15 Nella sua parrocchia di Cagli Nuova, a San Pierdamiani Intanto c'è stato il rosario con le preghiere spontanee dei cittadini, di coloro che fanno anche pochi commenti Perché in città Caglie si commenta poco C'è tanto rispetto però, tanto rispetto per il grande dolore dei genitori Dicevamo, gli occhi sono tutti puntati, anche con una certa rabbia Perché stando alle cose che si leggono sui giornali, chiaramente oggi c'è rabbia nei confronti di questo medico Che ha avuto un po' anche un passato, come può capitare a tanti, non è che questo sia una colpa Cioè un momento in cui uno decide magari, che ne so, di smettere la sua professione Di fare altro, così come ha fatto per esempio il dottor Mecozzi Che a un certo punto, secondo quanto scrive il resto del Carlino, della sua vita Ha deciso di abbandonare la professione medica Ha fatto per qualche anno il magazziniere Alla domanda perché facesse l'ha detto alla vendita dei trapani fino a pochi anni fa Al lobby di Pesaro, l'avvocato Pizza, l'avvocato del dottor Mecozzi Ha spiegato, è stata una scelta personale e su questo chiaramente non si può assolutamente dire nulla Non è una colpa Però sull'atteggiamento assunto in questo caso specifico certamente la rabbia sale Perché il Carlino per esempio questa mattina racconta di quella visita assurda a casa di Francesco Mecozzi gli tira le orecchie e dice guardate, vedete, è guarito E questo è accaduto 12 ore prima che il bambino entrasse in coma Se lo avessero portato in ospedale forse si salvava Ed è il racconto appunto di quella sera Certamente da qui si evince nel racconto di Roberto Damiani Di come la famiglia, che già sta pagando un alto prezzo Sia totalmente o quasi totalmente dipendente da questo medico Questo medico avesse un forte scendente su questi due genitori La mamma che ha un bambino in quelle condizioni quasi semi-incosciente Che comunque di fronte all'operatore del 118 Decide di chiamare un'altra volta il medico per sapere che cosa deve fare Beh, insomma, questo la dice lunga Ma poi c'è la magistratura che naturalmente sta indagando su tutte queste persone Medico e i genitori compresi Anche i genitori sono indagati per un uccidio colposo Questo va sottolineato Sarà un atto dovuto, quello che volete Però certamente fa pensare, fa riflettere Il fatto che questi genitori, questa mamma Continuasse a chiamare, pendesse dalle labbra di questo medico Che aveva in cura il piccolo da quattro anni E non avesse dato via libera In una situazione come quella ormai precaria, quasi disperata In via libera, totalmente mano libera A questo operatore del 118 Che stava dicendole semplicemente che Era il caso di dare intanto una terchipirina Per abbassare la febbre Ma questo non è successo E questo è il racconto, è quello che è successo Insomma Anche qui viene sottolineato Sull'articolo di questa mattina Intanto che il bambino era in cura da almeno quattro anni E da dottor Mecozzi Che appare un tipo di poco stravagante Visto che fino a qualche anno fa Era dipendente addetto alle vendite del lobby a Pesaro Settore elettromeccanica Un altro, sempre sull'altra, un'altra pagina Dove si punta Si punta su questa cosa Su questo Aspetto personale, privato Della vita del medico E il Corriere Adriatico invece In una sintesi Fotografica Racconta in sei punti Quelli che sono stati i momenti E i dialoghi Tra il dottor Mecozzi E il medico del 118 Che è arrivato quella notte Allora Il dottor Mecozzi al medico del 118 Dice Non è il caso di ricoverarlo Sottoponga il bambino Ad una terapia a domicilio Come dire Lo lasci a casa Il medico del 118 A Mecozzi Non c'è tempo da perdere È in codice rosso Per gravi problemi neurologici Mecozzi dice al medico del 118 Faccia come crede Mecozzi è la mamma di Francesco Perché si passano il cellulare Gli dica di non dargli antibiotici O antipiretici La mamma di Francesco Al medico del 118 Fa ed esegue Quello che ha detto il medico Non gli dia antibiotici O tachipirina A quel punto Il medico del 118 Sentite cosa fa E cosa dice la mamma Signora non si preoccupi Diamo la tachipirina Anche ai neonati Questo è il dialogo Mi fa capire esattamente Un po' come davvero Stavano andando un po' le cose Il presidente provinciale Dell'Ordine dei Medici Conosce bene chiaramente Mecozzi Essendo stato segretario Dell'organismo per 25 anni Dice Paolo Battistini Tra l'altro un fanese Oculista Presidente dell'Ordine dei Medici La provincia di Pesaro Dice Ora il dottor Mecozzi È indagato per omicidio colposo Per aver curato Il piccolo Francesco Solo con rimedi omeopatici Attenzione Rimedi omeopatici E dice Battistini Convocherò il dottor Massimiliano Mecozzi Nella sede dell'Ordine Come prevede la procedura Intanto tramite il legale Del medico Maria Lucia Pizza Dice Il dottor Mecozzi È un uomo distrutto E non ha mai avuto problemi Con i suoi pazienti C'è massimo rispetto Per il dolore Della famiglia Chi è questo medico? È un libero professionista Con una nutrita clientela In tutto il Pesarese Mecozzi non ha mai avuto Voluto iscriversi Nell'elenco dei medici Che praticano la medicina Non convenzionale Come l'omeopatia Non so Dice il Presidente Battistini Se per scelta personale O perché non aveva La specializzazione specifica Abbiamo già detto Molto religioso Membro di un gruppo Roveto Ordente Di cui anche la magistratura Si è occupata Diversi anni fa Mecozzi aveva cancellato La sua iscrizione All'ordine dei medici Poi un anno fa Invece aveva richiesto La reiscrizione E ovviamente Era stata accolta Cambiamo pagina E cambiamo argomento Adesso sulla pagina di Fano Invece A Fano si discute Soprattutto sui social network Sulla decisione Di chiudere lo Sciale del Mar Abbiamo le carte in regola Dicono i proprietari Potrebbe arrivare oggi La decisione però Sul dissequestro Il Sindaco Seri Convoca la commissione Mentre si attende La convalida del giudice Su Facebook Si scatenano I commenti Sotto invece Il titolare Dei Chi Sei Che è un altro ristorante Che fa musica Eccetera Però più spostato a sud Siamo sulla spiaggia di Sassonia Dice anche a me Il titolare dice Anche a me Anche al mio locale Hanno messo i sigilli Però Allora Il Sindaco Non mosse una virgola E' lo sfogo Di Perugini Augusto Perugini Che dice Ci abbiamo messo Rimesso Migliaia di euro Sequestro da fantascienza Invece per il Corriere Adriatico Lo Sciale riaprirà presto Mengucci e Rossini Increduli Nel Mirino Le 2000 presenze E non La musica alta Dunque tanta gente In questo locale Evidentemente Se la torta è quella Tutte quelle presenze lì Tolgono Evidentemente Clientela Da qualche altra parte E qualche invidia Probabilmente Qualcuno Ha voluto Un po' Fargliela pagare Queste sono Illazioni Sono cose che si dicono Sono commenti Che si leggono Erano state effettuate Due autorizzazioni Però Dubbi sulla tempistica Volete farci chiudere Perché? Diteci il perché Dicono i proprietari Autogol e attacchi mirati Fare turismo Qui è impossibile Stessa scena Allo Sport Park E già Qualcuno ricorderà La festa della birra Che è stata negata Allo Sport Park Che a Pesaro Invece aprono I locali I locali aprono Qui invece chiudono A Fano C'è un evento Un evento che porterà 2000 persone Nei prossimi giorni Qui in città 2000 sportivi Serve però Il nuovo Palace Ossigeno per gli alberghi Grazie alle finali Nazionali Di pallavolo Under 18 Sono ragazzi Che probabilmente Tra questi Ci saranno anche I campioni del domani Della pallavolo Fatto è che Arriveranno circa 2000 persone Tra atleti e genitori Che saranno sistemati Negli alberghi di Fano Torrette, Ponte Sasso E Marotta Sono 28 squadre Chiamate a sfidarsi Provenienti da tutta Italia Per quanto riguarda Le Marche Ce ne sono due Chiaramente La padrona di casa Virtus Volley Fano E poi La Lube Civitanova Marche Ci sono questi Incontri in programma Anche in impianti Che sono sparsi Un po' Perché ripeto Non avendo affanno Il palazzetto Dello sport Bisogna ricorrere Un po' Anche ad altri impianti Come Lucrezia Per esempio Comunque quattro impianti Alle tre e mezzo Del pomeriggio Fino alle 17 Poi mercoledì 7 giugno Insomma tutto comincia Il 6 Ci sono tante persone E soprattutto Davide Mazzanti Lo vedete in questa fotografia Marottese Commissario tecnico Della Nazionale Femminile Italiana Di Volley Soldi Extra Al Fano Calcio Maggioranza blindata La contestata delibera Per la terza volta Arriva in Consiglio Comunale E adesso Acceleriamo I tempi Anche sul Corriere Adriatico Si parla di pallavolo La pallavolo torna a casa Con le finali Under 18 L'evento ha 30 anni Pensate Sono passati 30 anni Dallo scudetto della Virtus In arrivo 2000 presenze Grazie a Fano Che resta comunque Realtà cardine Per la pallavolo Vedremo qui I campioni di domani E qualcuno Che già adesso Dice la sua Allarme per il ponte C'è un altro ponte Dopo quello A Chiaruccia Un altro ponte Che ieri ha dato Qualche problema Si è staccato Un calcinaccio Questa volta Siamo a Bellocchi Di Fano Un automobilista È stato colpito Da uno di questi calcinacci Ci sono verifiche In corso Vedete la fotografia Con la municipale Che ha chiuso La strada E i vigili del fuoco Che fanno il sopralluogo Alle 13.15 Una smart Che transitava Lì sotto Su questa strada Provinciale È stata colpita E danneggiata Sul parabrezza Da un piccolo blocco Di cemento Che si è staccato Da questo punto L'anno orribile Dei punti La notizia Che invece pubblica Il Corriere Adriatico Sulla pagina Di Fano È una di quelle Che fa venire Un po' la pelle d'oca Soprattutto Per i cattolici Per i credenti A un certo punto Domenica Nella cappella Di Santa Maria Nuova Il celebrante Il prete Il sacerdote Padre Giancarlo Mandolini Nel commentare L'episodio del Vangelo Se ne è uscito Dicendo che C'è un commercio Di ostie Che vale anche 100-200 euro Per Che poi vengono rivendute Per compiere satanismi E le parole Di questo sacerdote Durante la messa Insomma Hanno colpito molto Anche perché poi C'è stata Un'anomala reazione Di un fedele Che a un certo punto Racconta Massimo Foghetti Questa mattina Sul giornale Si è alzato È andato a fare la comunione Ha preso questa particola Se l'è messa tra le mani E zitto zitto Se ne stava Andando fuori O comunque Verso il fondo Della chiesa Un frate giovane L'ha individuato E lo ha bloccato Ha chiaramente Poi Mangiato L'ostia Se è giustificato La giustificazione La troverete Sul giornale Di questa mattina Allora Sul delitto Lulli Invece cambia tutto Arriva l'appello E dunque Arrivano anche I nuovi legali L'avvocato L'avvocato della Miss Sfreggiata Quella di Rimini Con l'acido Difenderà Mario Mema Prepariamo il ricorso Dice Mbera invece La ragazza Indagata per concorso In omicidio Questa è la novità Che ormai Non è più una novità Perché insomma Si è appreso Nei giorni scorsi Ma la mamma di Ismaele Dice Io lo chiedevo Da due anni È stata tenuta fuori Da questo processo Adesso invece Entra Entra E diventa Protagonista importante Non importa Quanto tempo ci verrà Ma Li aspetto Come loro hanno aspettato Mio figlio Queste sono le parole Ancora cariche Purtroppo di rabbia Della mamma Di Ismaele Lulli Il ragazzino di 17 anni È stato sgozzato A San Martino In Selvanera A Sant'Angelo In Vado Pro sindaci E consultori Si decide L'altra faccia Delle nuove elezioni Terreroverisca Del voto 24 candidati Poi tutto passerà Attraverso il consiglio comunale Nuova palestra Sempre dalla Valle del Cesano Da Terreroverisca Nuova palestra Scatto Finale Ecco 8 mila euro Per il sottofondo Da Senigallia Invece Sempre sul Corriere Prodotti tipici Dialetto e offerte Ecco le griffe Dei negozi in centro E l'ultima pagina Quella di nuovo Del Carlino Per la lezione Del centenario Ottaviani 101 anni Compiuti Il 20 maggio scorso Ottaviani Questa volta È andato in carcere A Fossombrone E lui ha detto Lo sport vi rende liberi Il nonnino sprint Con l'Ateneo di Urbino Il prof Federici La sua vita dimostra Che non è mai Troppo tardi E poi A Mondavio Investito un ciclista Adesso È in prognosi riservata Sassoferrato Invece Sassoferrato Scusate Scooter contro un'auto Grave in 43enne Di Pergola È tutto Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa Grazie a tutti voi Ci rivediamo Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti